Sesto successo consecutivo per l'Amen Scuola Basket Arezzo in questa volata finale di stagione regolare del campionato di serie C-Gold. Gli Amaranto di coach evangelisti hanno la meglio sul Castelfiorentino al termine di una gara intensa che ha divertito il numeroso pubblico a corso al Palasport Estra. Partenza determinata degli ospiti con un belli implacabile dall'arco dei tre punti, dall'altra parte è Fornara a rispondere e tenere a galla gli Amaranto. Poi è Peluchini a mettere a riferto cinque punti consecutivi che scaldano le mani dei tifosi Amaranto e riportano in scia l'Amen. Nel secondo parziale Castelfiorentino prova ad allungare sfruttando una difesa intensa che produce qualche palla persa per la SBA. Si va a riposo sul 36-31. A rientro in campo l'Amen è letteralmente trasformata a una serie di triple. Di Rossi, Toia, Fornara e Vaselinovic mettono in crisi la difesa del Castelfiorentino con un parziale di 16-2. Belli prova a rispondere nuovamente dalla lunga distanza ma Fornara rilancia la SBA a più 14. L'Amen vola sulle ali dell'entusiasmo chiudendo la partita con una tripla di Rossi che suggella il più 18 massimo vantaggio per la SBA prima che i punti di Alberto Lazzeri fissino il punteggio finale sull'81-66. Domenica prossima a Siena con la Menzana un'altra sfida importantissima per i ragazzi di coach evangelisti che a questo punto non devono fare calcoli ma giocare ogni partita come una finale. Stasera ho chiesto una cosa sola, l'ho chiesta per i ragazzi, cioè di vincere per togliersi la soddisfazione di aver battuto le tre squadre più forti del campionato. che alla fine Cecina, Prato e Castelfiorentino secondo me sono le squadre più forti del campionato. Siamo riusciti a battere almeno una volta tutte e due e penso faccia anche piacere ai ragazzi che se lo meritano per come si stanno allenando, per quello che stanno dando alla squadra. Siamo cresciuti tanto in difesa e era quello che ci mancava un po' nei giorni d'andata. Siamo riusciti a battere sia Spezia, come hai detto te, Cecina e anche Cecina, Prato e Castelfiorentino. Con le ultime due partite potremmo quasi avere la garanzia di vittoria riuscendo ad andare direttamente in Serie B oppure ancora sarebbe ostica e influenzata dai risultati delle altre squadre? Ti dico la verità, è dalla sconfitta di Alto Pascio che non guardo più la classifica. Nel senso che non faccio calcoli, abbiamo deciso di prendere partita per partita, pensare solo a quella, credo che abbiamo scarsissime possibilità di arrivare tra le prime quattro ma non so neanche se c'è la possibilità, però ti dico la verità, noi giochiamo ogni partita per vincere perché penso che ci divertiamo a giocare insieme e questa è una roba troppo importante.